Der Blu su Prese Verdi, molto tecnico e duro. Ale, arrivai, riavvicina il piede sinistro, ok? Vai. Alla svasa, vai. Alza il piede sinistro. Ale, Ale, carica il piede destro, lì. Accoppia sul piede sinistro e ti siedi. Ti siedi, vai a sederti, tirati su e siediti, siediti con l'anca, così, siedi, stacca un po' la mano sinistra un attimo per sbizzarla, se no impazzisci. Ok, riprendila. Dove hai l'anca, metti il ginocchio, bravo. Adesso passa in punta, passa in punta. Rivai con la mano destra, fuori, più a destra la mano destra, più a destra ancora, più a destra, ok, brava. Hai due presine orribili, ok, ribalta.